allora se gli siamo fatti tutto in sincrono è fantastico prima sinistra poi a destra quindi dalla nostra parte prima destra e poi la sinistra E' bello sento bene, può anche girarmi per dire dove c'è La stringe ma e io siamo più adatt Wednesday Gi 것을 cucumbersale nel sistema sond gustado Quindi dove c'è la macar La stringe ma e io siamo più adattển Quindi SUV эта sconda razzle Grazie a tutti 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 Grazie a tutti